E' stata presentata ieri la prima edizione di Sport & Joy, tre giorni dedicati a diverse attività dove lo sport sarà il vero protagonista. Buon cibo, musica e spettacoli allieteranno l'evento che si terrà in via toscana e che si preannuncia ricco di sorprese. Una manifestazione nata da un'idea del consigliere delegato alle politiche giovanili allo sport del comune di Ponte Caniano Faiano Gaetano Nappo con il supporto del presidente dell'associazione socio-culturale sviluppo Marco Erra. Da premettere che io vengo dall'associazione, ho meritato tantissimi anni nelle associazioni quindi sono molto vicino, capisco le possibilità che hanno le associazioni se vengono affiancate dalle istituzioni. Quindi a 60 giorni dalla nostra nuova amministrazione dove sono stato eletto mi è venuta l'idea di creare questo grande villaggio sportivo affiancato da tante associazioni con l'associazione sviluppo promotrice per inglobare tutte le attività che ci sono sul territorio e anche al di fuori. In poche parole, ripeto, questo è un grande villaggio sportivo dove ci sono un sacco di attività, non solo quelle quotidiane, normali, ma anche attività un po' più particolari. Il nostro intento è quello di far interagire la gente e avvicinarla allo sport, così facendo c'è la possibilità di sensibilizzarla verso lo sport che non è solo, ripeto, attività fisica, ma può essere oltre aggregazione e quando si fa sport si sta bene col fisico e si sta bene con la mente. Grazie.